Save the Children torna a mettere in luce la drammatica situazione dell'infanzia in Siria. Il conflitto sta impedendo a oltre 3 milioni di bambine e bambini di godere del diritto all'istruzione e un nuovo video della campagna Atowit Syria chiede la fine degli attacchi sui civili e in particolare sulle scuole, sugli ospedali e sui rifugi. Secondo le stime di Save the Children più del 18 per cento delle scuole sono state distrutte utilizzate a scopi militari o come rifugio per gli sfollati. Intere generazioni vedono messo a rischio il loro futuro. I tassi di istruzione nel paese passano da oltre il 90 per cento al 6 per cento negli ultimi quattro anni. Difficile la situazione anche per i bambini rifugiati, spesso costretti a lavorare e vittime di bullismo e violenze.